buonasera a tutti quanti ancora una volta in italiano questo live dunque abbiamo fatto settimana scorsa un live di un'ora dalla raffineria in ticino dove abbiamo presentato diversi prodotti in francese quindi lingotti monete le diverse cose questa volta di nuovo lo facciamo in italiano la settimana prossima in inglese quindi si cerca di fare un po i poliglotti e passare da una lingua all'altra aspettiamo come sempre un consueto minuto in modo da lasciare le persone collegarsi raggiungere il live nel frattempo non dimenticate di abbonarvi a gold avenue in modo che tutte le volte facciamo un live siete informati in tempo in tempo reale quindi ricevete la piccola la piccola notifica dunque un minuto abbiamo aspettato chi doveva venire è arrivato iniziamo subito rispondendo alle alle domande le prime che ci sono quindi non esitate a scrivere le vostre domande nel chat qui a qui a destra l'obiettivo è rispondere il più possibile i vostri dubbi quesiti e quanto altro ne abbiamo antonio che scrive buonasera io volevo chiedere perché dovrei scegliere di acquistare l'oro tramite la vostra piattaforma piuttosto che un piano di accumulo tramite etc di altre piattaforme allora eh antonio è una scelta puramente personale eh vuol dire che l'oro che noi vendiamo su gold avenue è puramente oro fisico allocato vuol dire che tu compri il lingottino da noi e noi prendiamo il lingottino d'oro lo mettiamo nel cavo eh a tuo nome oppure puoi richiedere che ti che ti venga spedito in qualsiasi momento tu lo puoi recuperare lo puoi rivendere è veramente l'aspetto fisico e devi vederlo un po' più come un'assicurazione piuttosto che una speculazione ok tu quando invece vai a comprare un etc etf un derivato o altro hai sempre il rischio della controparte vuol dire che se gold avenue domani fallisce per assurdo speriamo che non succeda tu puoi venire nei cavo da noi e recuperare il tuo oro perché ti appartiene noi facciamo solo il custody della tua merce se tu invece un etc che tu vuoi tenere a lungo termine come piano d'accumulo a un certo momento può darsi che la società che ha emesso questo etc etf o quant'altro faccia fallimento e a questo momento tu non hai nessuna pretesa siccome l'etc è nel loro bilancio quindi eh secondo me il piano di accumulo e se lo vedi più come sicuro ehm salvaguardare il tuo risparmio scusatemi delle volte un po' le parole francesi che 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 mi scivolano ehm io partirei più su dell'oro fisico quindi che veramente questa sicurezza che l'oro c'è è tua e ti appartiene ti costa un po' di più perché ovviamente dobbiamo produrre l'oro cioè come produciamo l'oro raffiniamo e produciamo il prodotto finito quindi c'è un costo e in più è il costo di stoccaggio cose che spesso non hai negli etc o dei derivati perché eh ogni tanto non viene anche del loro fisico che copre questo etc quindi se è più speculativo direi etc etf mentre se più per salvaguardare il tuo risparmio andrei più su del loro fisico eh Charles buonasera perché si dice che l'oro sia una protezione contro l'inflazione quindi questa è una è una domanda un po' standard eh allora l'oro semplicemente è limitato quindi si dice che si se prendi tutto l'oro del mondo e ne fai un cubo puoi metterlo sotto l'attore fel quindi e e ieri perché vedo che qualcuno chiede subito dopo del platino eh ieri è uscita una newsletter su platino che trovate che trovate su su gold magari uno dei miei colleghi eh riesce a mettere il link dove si dice che per una casa più o meno normale si riesce a mettere tutto il platino del mondo in un nella casa di quasi ognuno di noi quindi veramente una quantitativo minimo presente presente nel mondo adesso perché appunto ehm protegge contro l'inflazione perché l'inflazione cosa fa l'inflazione indebolisce la moneta cartacea quindi l'euro eh il dollaro la sterlina e quant'altro quindi automaticamente più l'euro si indebolisce più le non solo l'oro ma anche eh le materie prime il cotone la benzina come l'avete visto ultimamente un po' da tutte le parti eh e altri prodotti limitati in quantità eh diventano di 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 il prezzo si 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 corregge e quindi accresce quindi automaticamente più c'è inflazione più i prodotti limitati si apprezzano in valore quindi automaticamente storicamente fa questo effetto qui di di proteggere l'inflazione siccome non tutti vogliono comprarsi non lo so un quintale di cotone un quintale di grano mentre l'oro che è piccolo e conserva bene il valore perché è molto facile da trasportare nascondere e e rivendere anche perché c'è un mercato molto liquido a questo effetto di di protezione contro l'inflazione spero a Charles che ho risposto alla domanda quindi Aldo buonasera sul sul platino quindi il platino c'è stato questo eh questo articolo non so se è stato già tradotto in in italiano eh che è uscito ieri fatto molto bene da uno dei nostri collaboratori eh il platino è principalmente usato per l'industria eh delle automobili quindi serve per fare i catalizzatori diciamo che più o meno mi sembra 90 per cento del platino mondiale utilizzato per l'industria delle delle automobili poi viene un po' per la parte dei gioielli si usa un po' il platino per i gioielli e in seguito vi è una minima parte che per l'investimento bisogna sapere che quasi la maggior parte del platino mondiale è eh eh come si dice viene estratto in Sudafrica che è un paese che ha una certa instabilità quindi il prezzo è molto volatile perché dipende sia dai dalla situazione in Sudafrica dove viene estratta la la maggior parte sia dalla domanda eh dell'industria delle automobili quindi è molto più speculativo che che l'oro e l'argento perché ci sono diversi fattori che entrano in conto quindi ma non esitare andare a vedere sul sul nostro blog perché ci sono tutti i dettagli e anche meglio spiegati di quello che sto facendo io adesso eh Luca che percentuale di patrimonio investirebbe in oro fisico? Investirei io o investiresti tu? Eh allora dipende veramente dal tuo approccio al rischio eh se sei una persona a cui il rischio non piace eh l'oro è un attivo che è molto stabile quindi si muove poco relativamente poco verso l'alto quindi non è con l'oro che guadagnerai cento volte il tuo patrimonio in ventiquattro ore a meno di grandi eventi eh catastrofici su questo pianeta e purtroppo siamo stati abituati male negli ultimi due anni ma non si svalorizzerà in modo veloce quindi non farà la stessa cosa che magari una criptovaluta ha fatto negli ultimi due tre mesi non vuol dire che le criptovalute non devono essere nel nostro portafoglio però chiaramente una criptovaluta è molto più volatile e più rischiosa in termini di investimento eh che l'oro che ha questo effetto un po' di assicurare il tuo il tuo la tua fortuna eh consigliano di avere tra il 5 e il 10 per oro eh ma è la stessa cosa per un po' più tutti gli investimenti io consiglierei o almeno non sono un financial advisor e quindi non posso dare consigli finanziari però bisognerebbe evitare di avere un'esposizione troppo importante nello stesso attivo vuol dire che eviterei di avere 50 per cento in oro come avrete di avere 50 per cento in tesla in eh in un'altra società o anche avere 50 per cento in euro perché finalmente se domani per qualsiasi cosa l'euro perde tutto il suo valore come stanno vivendo poi i nostri poveri turchi in eh in Turchia dove la moneta si è svalorizzata del 60 per cento in un anno coloro che pensavano di non essere esposti a degli investimenti perché avevano tutto il loro patrimonio nella lira turca si sono ritrovati con una perdita secca del 60 per cento quindi bisogna sempre avere un buon equilibrio sempre Luca per un accumulo in argento sempre in ottica protezione conviene comunque il prodotto con IVA grazie mille in anticipo è un'ottima è un'ottima domanda allora il prodotto con IVA vuol dire che è un prodotto sdoganato perché in più o meno tutti i paesi europei appena l'argento non è esente IVA quindi tu dovrai pagare l'IVA all'importazione eh se tu lo vuoi tenere sotto il tuo comodino sotto il tuo il tuo materasso dovrai per forza pagare l'IVA quindi ti dà veramente questa sicurezza di ce l'hai tu lo controlli te fai quello che vuoi adesso bisogna essere onesti l'argento prende tantissimo spazio per il valore che rappresenta quindi se andate a vedere il live che ho fatto in francese giusto perché vedete i prodotti alla fine sollevo questa enorme barra da 32 chili di argento che sono poi 20 mila euro quindi però è una barra gigantesca e molto scomoda da da manipolare noi quello che proponiamo è questo stoccaggio di prodotti in un porto franco vuol dire che è un deposito doganale una specie di zona aereo portuale all'interno di un cavo chiaramente dove eh la merce è in transito è un po' assurda come come cosa da concettualizzare però è un prodotto che non è ancora arrivato nel paese di destinazione vuol dire vengono dagli stati uniti sono in questa zona aereo portuale ma siccome non hanno ancora attraversato la dogana non viene ancora fatturata l'IVA quindi automaticamente possono stare in questo deposito eh quanto tempo volete quindi se tu compri da noi l'argento esente IVA tu hai comunque il tuo lingotto fisico l'unica cosa è che non te lo spediamo perché appena attraversa la frontiera ehm dovrai pagare l'IVA quindi a questo punto compro un prodotto già già con l'IVA eh il vantaggio è che se qualsiasi cosa dovesse succedere a Gold Avenue in futuro i prodotti sono lì sono tuoi sono fisicamente lì eh se tra vent'anni noi dovessimo chiudere la nostra attività a quel momento potrai o rivenderceli mentre se tu vuoi ricevere il prodotto fisico dovrai bensì pagare l'IVA o farlo transitare in un altro porto franco però in questo modo per tutto il tempo che l'avrai detenuto se tu eh tra dieci anni decidi di rivenderlo non avrai pagato l'IVA che comunque non so se ci scrivi dalla Svizzera o dall'Italia l'IVA sull'argento in Svizzera siamo al sette sette per cento che è già tantissimo e in Italia se non sbaglio siamo tra il diciannove e il ventuno per cento quindi eh è veramente una una cifra abbastanza importante e quindi eh lo stesso ragionamento vale per il platino e palladio eh platino e palladio sono soggetti a IVA quindi in Italia 20 per cento e passa di IVA eh Tony quale metallo prezioso dovrai comprare eh questo di nuovo dipende dal tuo approccio eh come investitore o se vuoi sicurizzare il tuo il tuo il tuo portafoglio ehm l'oro è quello che si muove di meno quindi che sarà meno rischioso perché andrà meno velocemente verso l'alto e verso il basso eh ricordatevi sempre che la remunerazione è data dal rischio quindi meno rischio meno meno remunerazione l'argento più remunerazione ma un pochino più rischio mentre il platino e il palladio andiamo verso l'alto e verso il basso veramente con delle oscillazioni molto importanti perché come l'abbiamo già detto oggi e anche in altri live sia il platino che il palladio servono molto per l'industria delle automobili quindi automaticamente sono molto legati a questa alla domanda offerta e quindi la volatilità è molto più importante quindi se volete farvi voilà se siete un po' più sportivi come investitori qualcosa di interessante non andrei a mettere 10 per cento il mio patrimonio in platino o palladio per sicurizzare i miei i miei asset eh voglio fare più un po' da 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 gamble o da speculatore dopo io personalmente non sono uno speculatore perché dormo male la notte però qualcuno può piacere anzi abbiamo tanti clienti che 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 se lo comprano poi puoi prendere il grammino il grammino saranno siamo su cifre molto più modeste quindi puoi fare qualche piccolo esperimento eh Henri quanto sarà possibile pagare Henri mi sembra un francese che che parla bene l'italiano eh che quando sarà possibile pagare piccoli importi tramite bonifico bancario questa è un'ottima notizia perché oggi questa mattina abbiamo fatto passare una nuova un nuovo correttivo se non erro controllare giusto che i miei colleghi ma in teoria abbiamo abbassato a 100 euro il il minimo per pagare con un bonifico bancario se avete fatto la verificazione del vostro profilo quindi fino a ieri era duemila euro minimo e da oggi è 100 euro quindi eh per noi è un rischio perché sapete benissimo come magari non lo sapete ma come funziona quando voi comprate su gold avenue noi dobbiamo bloccare il prezzo del metallo sul mercato vuol dire che noi ci prendiamo un rischio a vostro nome della volatilità del prezzo nel momento che voi ci avete detto compratelo e ve lo pago quindi se noi blocchiamo il prezzo e voi non ce lo pagate noi ci ritroviamo a essere speculatori quando in verità siamo solo transitari di 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 metallo quindi abbiamo esitato a lungo per abbassare o meno questo questo limite noi facciamo diamo molta fiducia come la nostra community ne dà a noi e quindi ci siamo detti proviamo ad abbassarlo vedere se la gente non non abusa un po di questa di questa nostra disponibilità e permetterà quindi a molte più persone di fare transazioni diciamo più veloci senza dover per forza raggiungere questo limite di di duemila euro quindi per investimento a basso rischio e meglio oro di platino eh sì quindi aldo esatto quindi basso rischio oro abbiamo basso rischio oro poi argento platino palladio palladio per darvi un'idea 98 per cento della domanda mondiale eh va per l'industria quindi la parte di investimento nel palladio sarà neanche l'uno per cento quindi una volatilità veramente importante quindi eh il platino è tra l'argento e il palladio quindi anzi quasi più verso il palladio molto molto altalenante allora de mario ci chiede costo di stoccaggio presso gold avenue per barra da cento grammi ogni mese quindi cento grammi d'oro sono più o meno siamo sui cinquemila euro così a occhio eh e su cinquemila euro se tu lo compri da gold avenue non paghi niente niente eh è uno stoccaggio gratuito quindi come funziona lo stoccaggio da gold avenue offriamo lo stoccaggio da zero a nove mila cinquecento euro hai uno stoccaggio gratuito e assicurato ehm ecco qualcuno dei miei colleghi ha messo un link eh a vita cioè a vita eh fin tanto che possiamo farlo quindi eh fin tanto che le situazioni planetarie economiche e sociali rimangono di stesse quindi zero fino a nove mila cinquecento euro da nove mila cinquecento euro a cento a nove mila cinquecento euro eh dico cento perché in franchi svizzeri penso che sono i centomila eh con la conversione sono otto euro al mese quindi molto conveniente sì probabilmente una delle delle offerte più interessanti che ci sono eh sul mercato e a partire da novantacinque mila euro in su è su eh su eh on demand quindi su richieste facciamo a dipendenza del quantitativo che che la persona intende intende conservare con noi eh e cos'altro volevo dire riguardo lo stoccaggio già che ne parliamo eh niente di niente di particolare poi chiaramente stoccando lo da Gold Avenue ti permette di rivenderlo a a spot quindi senza nessuna commissione ah e perché ah no ecco cosa volevo dire perché offriamo questa possibilità ma semplicemente perché ci permette da una parte di fidelizzare i nostri utilizzatori non è che lo facciamo perché siamo dei buoni samaritani da una parte ci permette di fidelizzare i nostri utilizzatori perché fino a nove mila cinquecento euro ti permette di avere un accesso facile venire non pagare niente quindi avere veramente dell'oro senza pagare noi l'oro come sapete lo conserviamo nella nel cavo della raffineria eh che è basata qui eh qui in Svizzera nella parte italiana eh Ticino e quindi siccome siamo un gruppo industriale mondiale riusciamo a assorbire una parte dei costi di stoccaggio nel quantitativo che che stocchiamo in eh con gli altri eh con gli altri servizi che facciamo quindi per quello che possiamo permetterci questa 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 opzione eh Alessandro mio nome è omonimo ciao Alessandro piacere vorrei sapere fisicamente cosa succede quando compro e vendo metallo nei vostri stock per esempio se compro e vendo relative dopo poco tempo per esempio se vendo relative dopo poco tempo allora cosa succese fisicamente fisicamente devi immaginarti che abbiamo questo cavo che sì è gigantesco ma non è incredibilmente gigantesco perché l'oro alla fine prende poco poco posto quindi un chilo d'oro è neanche la dimensione di di un iPhone ehm quindi noi abbiamo quell'oro disponibile alla vendita da una parte e poi abbiamo l'oro disponibile per i nostri clienti il nostro oro che è nostro che però andiamo a fare un edge sul mercato per non avere l'esposizione alla volatilità e il vostro oro sono lo stesso identico posto perché è il posto più sicuro dove possiamo mettere i nostri metalli rispettivi quando tu compri da Goldavenio appunto noi facciamo questo edge sul mercato quindi andiamo a coprire la posizione che abbiamo dovuto vendere inizialmente per evitare di essere noi come Goldavenio esposti alla volatilità al momento che tu ci paghi noi ti attribuiamo il prodotto che diventa tuo a tutti gli effetti custodito da noi ma è tuo e in qualsiasi momento puoi decidere di rivendercelo o di fartelo spedire perché è tuo e ne fai quello che vuoi se tu nello diciamo un'ora dopo dici va io voglio rivenderlo a Goldavenio tu semplicemente sul tuo profilo utilizzatore clicchi un bottone dicendo io lo voglio rivendere e noi te lo ricompriamo al prezzo di mercato senza prendere nessuna commissione tu in questa operazione cosa hai perso perché qualcosa ci avrei perso tu hai perso il costo di produzione del lingotto quindi il costo che noi abbiamo dovuto pagare alla raffineria per darci il 50 grammi d'oro per esempio quindi sono ma non è tanto perché rispetto al valore dell'oro non è rappresentativo a meno che a prendere il grammino dove il costo di produzione è un po più di impatto ma sui 50 grammi o sul kilo viene assorbito quasi completamente e poi il nostro margine in quanto Goldavenio quindi perché noi dobbiamo comunque viverci alla fine della giornata tu perdi questi due valori qui ma recuperi comunque la totalità del valore dell'oro quindi se tu fai comprovendo e nel frattempo il prezzo dell'oro non si è mosso tu devi perdi questo valore qui se tu vai sulla piattaforma Goldavenio e clicchi sul prezzo in verde che trovi di fianco ogni prodotto tu vedi esattamente cos'è il prezzo che riceveresti in caso di rivendita immediata e cos'è il margine o il premio come vuoi definirlo che noi incassiamo che quindi è quello che perderesti se fai buy and sell quindi compra e rivendi in pochissimo tempo spero che che sia stato chiaro se non è chiaro non esitare a richiedere in modo che posso completare la mia risposta l'oro stoccato presso la vostra sede è assicurato per esempio in caso di eventuali furti chiaro sì 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 tutto l'oro che noi abbiamo l'oro agento platino e palladio tutto il nostro cavo è assicurato per cifre monumentali contro eventuali furti e vi dirò ben di più noi abbiamo un'assicurazione che assicura l'assicurazione si chiama contingent insurance in inglese non so come si dice in italiano è per evitare che se a un certo momento abbiamo un problema e l'assicurazione ha un problema vuol dire un caso su mille però io un problema loro hanno un problema abbiamo un'assicurazione che assicura l'assicurazione quindi voi quando stoccate da noi fino a 9500 euro è tutto incluso compresa l'assicurazione e dei 9500 euro in su sono 8 euro al mese ma avete questa garanzia che qualsiasi cosa accada voi siete assicurati i lingotti acquistati presso gold avenue sono in blister hanno un numero di serie allora questa è una buona domanda che ci hanno chiesto ultimamente appunto quando ero alla raffineria l'altro giorno qualcuno ha chiesto che i prodotti fortuna quindi questo lingottino con questa lady fortuna che il classico pump che vendiamo non arriva con un numero di serie cioè con un certificato aggiunto in realtà il certi pump che questo foglietto blu foglietto questo involucro blu nel quale la fortuna viene viene spedita è il certificato stesso perché se voi andate sul sito e guardate la parte opposta del certificato del blister vi è scritto il numero di serie la purezza il quantitativo d'oro c'è la firma c'è ci sono tutte le informazioni necessarie per autentificare il vostro lingotto il vantaggio è che se voi non aprite il blister lo conservate così avete il certificato che ingloba in sé il lingotto quindi è quello anche un po' il vantaggio di avere questi minted in questi prodotti lingottini che sono appunto spediti col loro stesso certificato che va insieme Alexia buonasera buonasera Alexia quando fa finalmente qualche donna anche chi chiede qualche domanda quando farà una live dalla raffineria in italiano? ah allora è stato un bel successo il live dalla raffineria è stato intenso perché abbiamo fatto un'ora di domande risposte con tutti i prodotti poi mi hanno chiesto di spostarli e sono comunque prodotti pesanti l'ultima volta ho avuto il tempo e l'energia di farlo solo in francese anche perché facciamo un caldo allucinante la prossima volta che vado in Ticino perché la raffineria è nella zona italiana della Svizzera mentre la nostra sede qui noi siamo a Ginevra dunque la parte francese della Svizzera la prossima volta cercherò di prevedere una live in italiano in modo che posso presentarvi tutti i prodotti e potete veramente interagire e chiedere i diversi dettagli sui lingotti il peso, la forma, le dimensioni no è qualcosa di veramente qualitativo interessante Luca in ottica di stoccaggio a lungo termine ci sono franchigie in caso di furto o smarrimento del vostro cavo conviene farsi spedire i prodotti allora no, non c'è una franchigia noi è un'assicurazione globale vuol dire che se tu hai un chilo d'oro da noio 50 grammi, un grammo qualsiasi somma nei nostri cavo è assicurato per intero qualsiasi cosa succeda tu riceverai il valore dell'oro al momento che è successo il danno vuol dire che domani mattina per assurdo uno ci ruma un lingotto da un chilo prendiamo il prezzo dell'oro di domani purtroppo non so ancora e sarà il prezzo che sarà assicurato dall'assicurazione la domanda conviene farsi spedire i prodotti dipende da persona a persona noi abbiamo per darti un ordine d'idea 80% della nostra clientela che conserva i prodotti con noi ti conviene farti spedire i prodotti se uno non ti fidi di noi che può succedere che tutte le informazioni che diamo non sono sufficientemente rassicuranti per lasciare i tuoi prodotti da noi se hai una soluzione che ritieni più comoda o più rassicurante per te quindi averlo a casa in banca in una cassetta di sicurezza in qualsiasi posto quindi è veramente una scelta personale l'unica cosa che devi fare attenzione è che se ti fai spedire l'oro a parte che devi assicurarlo te perché spesso dicono si io ho la cavetta di sicurezza in banca però se tu non dici che cosa c'è alla tua assicurazione nessuno te l'assicura la cassetta di sicurezza in banca e inoltre il momento che tu vorrai rivendere l'oro sappiate che noi per il momento non riacquistiamo l'oro che è uscito dalla raffineria perché non abbiamo un setup in piedi attualmente per controllare la qualità dell'oro che rientra nella raffineria e quindi per evitare qualsiasi rischio e quindi evitare di vendere ai nostri clienti oro che non è stato prodotto da noi oggi come oggi non accettiamo il riacquisto dall'esterno e quindi sarà a te dover trovare la migliore offerta e capire come massimizzare il tuo insieme senza farti fregare perché bisogna fare attenzione non tutti ma c'è qualcuno che ne approfitta e soprattutto quando hai bisogno di liquidità che è il momento dove siamo un po' più esposti a questi furbetti chiamiamoli così per i lingotti senza blister come ad esempio quelli da 50 grammi il numero di serie inciso fa da garanzia allora certo c'hai sul lingotto sia la purezza la data di produzione il timbro della raffineria il numero di serie e comunque i lingotti senza blister quindi sono i lingotti d'oro fuso sono spediti con un certificato cartaceo che viene insieme al lingotto che ne fa la garanzia cartacea però comunque sì il numero di serie dovrebbe già rassicurarti sufficientemente e in ogni modo quando tu rivendi a uno di questi negozi di compro oro il tuo lingotto a 50 grammi loro benché facciano fiducia a chi entra nel negozio e al certificato faranno comunque un controllo spectrografico mi sfugge un po' la parola però per assicurarsi che si tratta effettivamente di oro puro al 99,99% perché è la qualità che viene fatta di riferimento perché non viene fatto l'oro al 100% cioè non esiste lingotti 100% oro puro in Canada hanno fatto una volta una moneta a 99,999% quindi a 5,9% ma è solo un processo di raffinaggio in più che è molto costoso per mettere un 9 in più alla fine del certificato ma c'è qualcuno che apprezzava avere questo oro un po' più puro che gli altri Aldo vediamo ancora una domanda perché il tempo passa velocissimo però mi fa piacere che siamo qui in quasi una trentina di persone il contratto di acquisto di metallo prezioso può essere intestato a più persone tipo marito e moglie allora se contatti il customer service quindi il servizio clienti oggi abbiamo la possibilità di fare una richiesta su misura per avere un conto condiviso è qualcosa sul quale stiamo lavorando per la fine dell'anno dove vorremmo fare qualcosa che sia anche più automatico in modo che tu puoi condividere senza passare dal servizio clienti il tuo conto con moglie e marito e in più quello che vogliamo aggiungere è un conto famiglia nel caso tu hai dei bambini dei nipoti o qualcuno a cui vuoi costituire un portafoglio di metalli preziosi e questa persona non è ancora maggiorenne quindi qualcosa che stiamo sul quale stiamo lavorando perché abbiamo sempre più richieste di 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 genitori che vogliono assicurare una parte del dell'eredità che daranno poi ai loro figli in oro fisico e quindi direi l'ultima domanda Carlo l'acquisto dei lingotti è legato esclusivamente ad unica persona oppure si può aggiungere anche un altro nominativo quindi questa è più o meno la domanda interessante che che ha appena fatto Aldo quindi di nuovo per il momento se chiedete al nostro customer service al servizio clienti possiamo fare qualcosa su misura quindi con un documento che vi facciamo firmare per certificare che automaticamente vostra moglie vostro marito chi voglia abbia il diritto sui vostri prodotti vuol dire che in un certo momento se gli date il diritto questa persona può venire prendere fare e disfare quindi per il momento è ancora un documento cartaceo stiamo cercando di automatizzare il tutto in modo di permettere sia appunto a persone congiunte sposate eccetera di condividere il loro portafoglio di metalli preziosi ma soprattutto anche per i figli perché abbiamo tantissima tantissima gente che vorrebbe creare un piccolo salvadanaio diciamolo così di oro lingotti e monetine per i loro per i loro per i loro figli perfetto siamo 30 persone ancora una volta è un piacere rispondere a queste domande è super interessante sia per me e spero anche per voi come promesso cercheremo di fare questo live dalla raffineria anche in italiano per permettere a voi tutti di vedere i prodotti dal non dal vivo però farmi le domande live come si dice non dimenticate di iscrivervi al canale così tutte le volte che facciamo un live avete una piccola notifica una notifica vi permette di saltare dentro fare le vostre domande e non esitate a contattare il nostro servizio clienti che è sempre a vostra disposizione per rispondere a qualsiasi domanda voilà detto questo vi auguro un'ottima serata e a prestissimo e dove la raffineria è in Ticino Castel San Pietro un'ora da Milano quindi se metti su Google la trovi PAMP MKS PAMP buona serata a tutti ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti